Con noi Gianluca Belisari, autore del libro La Scuola della Totalità, un'esperienza didattica e pedagogica di 50 anni fa a Lanciano. Sì, è stata una bellissima esperienza, non solo di 50 anni fa a Scuola della Totalità, ma anche a Scuola dell'attualità, perché numerosi docenti universitari, accademici, studenti, ispettori del Ministero della Pubblica Istruzione sono venuti a prendere la documentazione archiviata nell'Istituto Cesare De Titta affinché si possa riattualizzare questa esperienza per le metodologie, per le tecniche, per tutto quello che è riportato nel libro, che a livello innovativo stanno veramente suscitando l'interesse di molti studiosi, ancora oggi dopo 50 anni. Cosa ha rappresentato questa esperienza? Questa esperienza ha rappresentato un fulcro di interesse da parte di tantissimi studenti universitari, di tantissimi accademici provenuti da ogni parte d'Italia, che hanno condotto il Ministero della Pubblica Istruzione ad emettere un decreto attraverso il quale l'esperienza fu legalizzata, istituzionalizzata e moltissime delle sue peculiarità sono state applicate a livello nazionale in tutte le regioni d'Italia. Una per tutte, per esempio, l'istituzione di numerosi organi collegiali che fino al 1974 non erano ancora presenti. Ed infine la metodologia, l'approccio didattico-pedagogico fortemente innovativo della Scuola della Totalità ha suscitato interessi anche a livello di tesi di laurea di numerosi studenti e non tutti sapevano che questa cosa fosse sepolta nella storia e l'intenzione del libro è stata proprio quella di riattualizzarla, di riportarla all'attenzione dei più.